Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Oggi siamo nuovamente su design.ai Nel video precedente vi parlavo di videomaker Se vi siete persi il video lo lascio qui in alto nelle schede Oggi voglio parlarvi di design maker L'hanno rilasciato da un po' di tempo Solo che per un verso o per un altro non sono riuscito a provarlo E oggi ve ne voglio parlare così in un video Che cos'è design maker? È l'ennesimo tool messo a disposizione da design.ai Ovvero i ragazzi di 123rf Che ci consente di fare dei piccoli lavori di grafica direttamente online Quindi senza scaricare programmi particolari di grafica vettoriale eccetera Questa è la sua interfaccia Abbiamo la possibilità di operare direttamente da queste categorie Che vi faccio vedere velocemente da qui Molto comodo già e intuitivo Vediamo anche i nostri progetti Ho fatto qualche prova E da qui abbiamo sempre la gestione del nostro account Vi ricordo che vi potete registrare gratuitamente Poi ci sono dei piani a pagamento per le varie necessità Link in descrizione perché i prezzi vanno cambiando nel tempo tra promozione e altro Quindi non mi sento di citarli all'interno del video Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato dai ragazzi di 123rf Per chi se lo stesse chiedendo non è sponsorizzato da 123rf Lo faccio perché mi va semplicemente di farlo Allora abbiamo appunto la dashboard che è questa Poi il wizard che ci consente appunto di creare attraverso comunque un'intelligenza artificiale il nostro progetto Come vedete qua per esempio mi dà la possibilità di fare un biglietto da visita Quindi già molto velocemente possiamo andare a realizzare il nostro biglietto Sto scegliendo da una categoria Per esempio mettiamo professional Facciamo un biglietto da visita Mettiamo il mio nome Ok Claudio Maiorino Come vedete in tempo reale abbiamo la gestione Poi vabbè via Della via Ok Ovviamente non mettiamo più di tanto Il numero di telefono per chi lo vuole è questo Ok L'indirizzo email mettiamo email chiocciola email.com E poi vabbè tutte le informazioni del caso Io ovviamente vado a fare genere Da qui abbiamo anche la possibilità di gestire le nostre cartelle Condividere i progetti O meglio vedere i progetti condivisi con me Qui abbiamo altri set appartenenti alla categoria professionale Per esempio mi piace molto questo Ok è abbastanza semplice pulito Ora mi apre l'editor Vero e proprio Quindi qui posso fare ulteriori modifiche A quello che è il template Messo a disposizione Da qui abbiamo Oltre vabbè la scelta di un altro template Da qui Filtrando sempre per le relative categorie Quindi posso andare di nuovo su business card E andare a scegliere un altro set Perché magari questo non mi piace Quindi con un semplice click Vado sostanzialmente a sostituirlo Ovviamente devo reinserire Nuovamente i miei dati Quindi torniamo indietro Però posso tranquillamente modificarlo Direttamente Posso anche inserire una fotografia Dal mitico archivio D123RF Che praticamente offre Prodotti premium O anche gratuiti ovviamente Possiamo filtrarli Grazie alla coroncina Abbiamo la possibilità di cambiare lo sfondo Al nostro biglietto Con un semplice click Quindi già anche da qui Possiamo veramente Creare progetti Molto velocemente E con Comunque anche gusto Io ovviamente sto scegliendo Le immagini più brutte In assoluto Vediamo di metterne una Decente Che rende di nuovo visibile Le scritte Ok Con un doppio click Ragazzi apriamo L'editor Per il nostro font Posso cambiare ovviamente Il font La dimensione Gestirne il colore Quindi per esempio Questo mettiamolo bianco Ok E posso spostare anche Gli elementi All'interno Della mia composizione Quindi posso Praticamente dare Un'inclinazione O andarli A spostare Regolando appunto Le caselline Di testo Molto comodo E soprattutto Molto intuitivo Qui abbiamo La possibilità Di inserire Altro testo Degli elementi Come vedete Abbiamo veramente Il mondo Tra linee Frame E oggetti vari I vari mockup Messi già a disposizione Quindi con un semplice click Li inseriamo Poi ovviamente Li possiamo anche Cancellare Altri elementi Dal kit Possiamo caricare Ovviamente Le nostre fotografie Io per esempio Vi vado a mettere Velocemente Questa fotografia Che avevo già caricato Come vedete E' semplicissimo ragazzi E' quasi disarmante Come riusciamo a fare il tutto Abbiamo anche le linee guida Linee guida Che ci aiutano Nella disposizione Dei nostri oggetti E poi vabbè Le nostre cartelle Con le fotografie Come vedete Che ho caricato E lui le tiene in memoria Nel mio account Poi con download Possiamo scaricarci appunto Il progettino Come vedete JPEG PNG O PDF Andiamo a scaricare per esempio Il PDF E come vedete Abbiamo il nostro bigliettino Da visita Ovviamente c'era anche L'altra facciata Che io Ho ignorato totalmente Però Poco importa Bene ragazzi Questo era Un excursus Un piccolo video Su Design Maker Vi invito a provarlo Perché Veramente merita La semplicità Con cui potete fare Anche un semplice post Instagram Una storia O anche un bigliettino Da visita Insomma Quello che vi serve Un piccolo manifestino Potete farlo grazie a Design Maker Realizzato da Design.ai Bene ragazzi Io per qualsiasi cosa Vi aspetto nei commenti E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao